Alessandro Burello, sono della diocesi di Alba e sono qui perché penso che solo in questi momenti di comunità si possa veramente vivere il vero spirito della Chiesa ed essere parte di un piccolo pezzo della Chiesa e camminare con la Chiesa per renderla migliore, per poter aiutare e migliorare il nostro Paese sia veramente una cosa importante e quasi un dovere per un buon cristiano partecipare.